Martín Vélez, numero di gara 18, ovega a fare Martín Step. Martín Vélez, numero di gara 18, ovega a fare Martín Vélez, numero di gara 18, ovega a fare Martín Vélez. Per cui anche in questo anno il Dappenorto per l'Università di Tundesbis, per il terzo il terzo il terzo il terzo il terzo. L'obattimento per il terzo il terzo. 14,7 a 5,10. è un'ercizionale Grazie a tutti Grazie a tutti